Per un look audace e deciso, che riveli la tua anima più rock, scegli le gonne di pelle che puoi trovare da cellofan. Se sei una donna sicura di te, ami essere sempre femminile, ma non ti dispiace avere un look provocante e ribelle, non potrai fare a meno di una gonne di pelle.